Amici buon sabato a tutti! Sapete che qui sul canale cerco di tenere i toni sempre molto leggeri. Si parla di chitarra? Sì, ma ci facciamo anche quattro risate. Eh, o almeno spero. Oggi invece voglio essere leggermente più serio perché rispondo a una delle domande che mi fate più spesso e che secondo me merita molto più di un commento veloce su Facebook o di un messaggio su Instagram. Domanda che mi viene fatta soprattutto dagli under 25 e da chi non è ancora entrato nel mondo del lavoro. La domanda è la seguente, me la sono salvata e ve la leggo. Riccardo, a me piacerebbe fare quello che fai tu, vivere facendo il chitarrista. Mi consiglieresti una volta finita la scuola e l'università di mollare tutto per dedicarmi alla musica? E che percorso mi consigli di fare? Scuole private o conservatorio? La risposta che darò in questo video vale per tutti i musicisti, non solo per chi suona la chitarra ed è la mia opinione personale basata sulla mia esperienza e non la verità assoluta. Consiglierei quindi di lasciare tutto per fare il musicista o chitarrista che sia a tempo pieno? Ma certo che... Sì! No! Scusa, forse non sono stato chiaro, mi spiego meglio. Tutti noi ci siamo trovati almeno una volta di fronte a questo bivio, spesso incitati a mollare dai nostri genitori che vorrebbero per noi un futuro più stabile e un lavoro fisso. Fare il chitarrista è magnifico, la gente ti adora, suoni per vivere, ti pagano, sei sempre in giro, conosci un sacco di persone. Wow! È un po' il sogno di tutti, no? Fare della propria passione e il proprio mestiere. Cos'altro vorresti di più dalla vita? Ehi, 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 frena un attimo l'entusiasmo perché stai tralasciando alcuni aspetti molto importanti che devi considerare prima di mollare tutto il resto. Sappi che a quasi tutti i livelli il musicista è un lavoro con un'altissima dose di precarietà. Lo stesso Luca Colombo, che sicuramente conoscerete quasi tutti, fece un post molto serio qualche tempo fa riguardo questo. E lui suona a Sanremo, ragazzi, non nei localini. Quanto riuscirei a lavorare dipende dalla tua bravura, dalle tue amicizie a ganci, dal saperti vendere, dal sapere andare incontro ai gusti delle persone. Se ti dovessero mancare questi fattori, potresti anche non uscire mai dalla tua stanza. Tienilo a mente anche se sei molto bravo. Inoltre, il nostro sistema legislativo non regola bene la figura del musicista professionista. Questo si traduce in lavoro spesso non regolamentato, instabile e, insomma, dio pensione e benvenuta vecchiaia in povertà. Ovviamente, ragazzi, non sto parlando di chi fa i grandi palchi o va in televisione, ma di chi ha una band e gira la propria regione, ad esempio, suonando in piazze, locali, matrimoni. Oggi ti chiamano per suonare e magari domani stai a casa. Quindi decidere di fare il musicista nella vita è una scelta sbagliata? Assolutamente no, potreste finire a calcare grandi palchi, in qualche orchestra, insegnare musica nelle scuole, avere un piano pensionistico privato. I modi per vivere di musica esistono, se riuscirete o meno dipenderà tutto da voi. È una strada in salita, ma sappiamo bene che non esistono strade facili nella vita. Passiamo quindi alla seconda parte della domanda, il percorso da intraprendere. Accademie private o conservatorio? Tanto per cominciare, se hai deciso di fare il musicista e rimanere autodidatta, benvenuto nel mondo della disoccupazione. Bisogna studiare. Punto. La concorrenza è spietata e chi riesce da autodidatta o ha un incredibile talento o un gran culo. Il conservatorio resta per me la scelta più saggia e la più difficile, è il percorso decisamente più completo e l'unico che rilascia un titolo di studio ufficiale. Vi fa punteggio nei concorsi pubblici? È più facile entrare nell'orchestra di un teatro? Potete insegnare musica nelle scuole? Io però non ho fatto il conservatorio, ma un'accademia privata e ho lavorato lo stesso. Ricordate che gli attestati delle scuole private non hanno minimamente nessun valore legale. Il vero lato positivo dell'accademia privata è che il percorso è più ritagliato sulle vostre esigenze e sicuramente più moderno. Per questo ci vanno tante persone. Conclusioni finali. Secondo me la soluzione è soltanto una, ovvero non mollare proprio niente. Ragazzi, continuate a studiare, continuate il vostro percorso di studio a scuola e all'università e nel frattempo iscrivetevi anche alla vostra accademia preferita o al conservatorio. Lo fanno tantissime persone, sacrificherete molto del vostro tempo libero, ma avrete qualcosa di veramente importante in futuro, ovvero la possibilità di scegliere, quando il tempo sarà maturo, se la musica per voi resterà sempre una grande passione oppure il vostro lavoro. Grazie a tutti.